Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Pisa per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est e in uscita a Prato Ovest. Sulla FIPILI per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sulla A1 l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori. Sulla regionale 2 Cassia per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze sul viadotto del ponte all'Indiano restringimento di carreggiata per incidente, traffico rallentato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.